Eh? Mi è venuta una bella idea zia per il tuo compleanno quest'anno. Quest'anno quanti anni fai, diciamo? Eh, non ti dico niente. La zia quest'anno fa 85 anni. È un bel traguardo, vero, come età? Eh, sì, tu non arrivi sicuro di no. Eh, vedi, la zia è contro gli integratori. Ascolta zia. Sì. E ascoltate anche voi. Secondo concorsone del blog di Vilma, concorsone Happy Birthday. Allora, dimmi la via dove abiti. Questa è la via? Cosa? Come si chiama la via qua? Dove abiti tu? 24 maggio? Sì, 24 maggio 36. 36? Via 24 maggio numero 36. Bene, allora cari amici. Ecco come si... Cos'è questo contest? Allora, avete tempo fino il 21 maggio circa di spedire all'indirizzo che vedrete adesso sovraimpressione che è Vilma Pellesson via 24 maggio 36. Brazzano, Gorizia, provincia di Gorizia, cap 34071. Di spedire. Allora, raccomandate con qualche contenuto. Cartoline, lettere o magari se avete dispositivi Apple come l'iPhone, una iCard, quelle che fa il programmino dell'Apple e dopo le spedisce cartonnate. La famo andare, mi sento fare molto idea. Ascolta, con i vostri auguri, messaggi per la zia il più bello verrà decretato il giorno del suo compleanno il 28 maggio e il vincitore avrà la possibilità di fare tre domande alla zia e la zia risponderà e in più risponderemo con un pacco simpatico, con un regalo al mittente quindi evitate di spedire col mittente falso tipo Pinco Pallino. Quindi, la zia fa 85 anni noi aspettiamo i vostri regali che sia qualsiasi cosa potete spedire anche un pacco ovviamente è difficile che andate a spedire pacchi e spendere soldi in un periodo come questo o magari una cartolina, una lettera, 60 centesimi giusto per fare gli auguri e il più bello verrà decretato il 28 maggio ovviamente, essendo in Italia le poste italiane sono lente, eccetera, eccetera spedite intorno al 21-22 maggio perché sennò non arriva in tempo io so, scoltami zia buone buone scolta, io so che il nostro canale non ha molti iscritti siamo sotto i mille so che io parlo male, con una voce fastidiosa però ti rompo tanto, vero zia? ti do tanto fastidio, vero? eh, sono stufa ecco, però non fatelo per me fatelo per lei tu ci sopporti tanto zia tanti video, tanti pacchi che apri sei veramente brava zia e dobbiamo festeggiare questi dobbiamo festeggiare tutti insieme questi 85 anni ma mica 20 anni il 28 maggio arriva 85 anni per Vilma aspettiamo tutte le vostre lettere, cartoline e tutto quanto ciao ciao, tu sei proprio matos